Ciao bimbi, come state? Noi siamo in casa, ma ci divertiamo lo stesso, vero Polto? Oh sì Marilu, ci divertiamo! A cosa Marilu? Eh di, facciamo tante cose! Con cosa? Tipo? Ah sì, facciamo i compiti, ma a me non piace tanto! Oh Polto, noi non facciamo solo i compiti, ma facciamo anche altre cose! Facciamo, per esempio, darti giochi insieme, vero? Sì sì, quelli mi piacciono, quelli mi piacciono! Mi diverto tanto a giocare con te Marilu! Eh? Lo so, lo so! Poi facciamo anche cose utili, tipo aiutare la mamma nelle faccende domestiche! Sì sì, mi piace tanto lavare i piotti! Eh certo, così schizzi l'acqua dappertutto! Ma, però, noi facciamo tante altre cose, anche importanti, sapete bambini? E voi li fate a casa vostra? Eh sì, noi facciamo delle cose importanti! Vedete questa? È la mia Bibbia! Sì, abbiamo letto la Bibbia in questi giorni! Abbiamo scoperto tante cose molto interessanti, vero Polto? Sì, Marilu! Abbiamo letto un versetto che a me è piaciuto tantissimo questa settimana! E già, un versetto dedicato a noi bambini! Sì sì, bellissimo! Io me lo ricordo ancora! Davvero Polto! Ma che bello! Lo vogliamo dire ai nostri amici? Sì! Il versetto si trova in Matteo 19, versetto... Versetto? Eh, versetto... Dunque, aspetta che non mi ricordi tanto bene... Credo 13! Bravo! Visto che ti ricordi tutto! E cosa dice questo versetto? Polto? Dice questa bellissima frase... Lasciate i piccoli fanciulli venire a me... Perché Gesù è il regno dei cieli! Wow! E chi ha detto queste bellissime parole? Ma Gesù! Che bello, bambini! Gesù ci ama! Abbiamo scoperto questa meravigliosa verità! Gesù ama tutti i bimbi! Sì, sì! Tutti! Anche quelli un po' benicchini come me! Ah! Polto! Sei così simpatico! Noi abbiamo fatto una bellissima decisione! Io e Polto! Sì, sì! Abbiamo deciso una cosa bellissima! Sì! Abbiamo deciso che vogliamo essere gli amici di Gesù! Sì, perché lui ci vuole bene! E vuole stare sempre con noi! E abbiamo pregato! E Gesù è stato il nostro amico e lo sarà per sempre! Sì! Fate anche voi questa bella esperienza! Va bene! Gesù ci ama! Ama tutti i bimbi! E il nostro cuore è per lui una cosa bellissima! Sì, perché la nostra mamma ci ha detto che se noi preghiamo e chiediamo Gesù di entrare nel nostro cuoricino, lui lo farà e noi saremo sempre con lui! Sì, bambini! È bellissimo questo! Non vi pare? Ecco, questa è la mia Bibbia! Io la porto sempre con me! D'ora in poi sarò sempre pronto a leggere un fessetto! Impareremo tante cose belle in questo periodo! Vero, Poldo? Abbiamo imparato una cosa molto interessante! Che Gesù ama tutti i bimbi! Gesù ama noi e ama anche voi bambini! Sì, sì, sì! Ama anche voi bambini! Non è bello questo? Ora vogliamo ascoltare una bella musichina di una bellissima canzuccina che dice Gesù ama me e te! Ciao, bambini! Ciao! Alla prossima! Ciao, bambini! Ciao! Ciao, Poldo! Gesù ama i bimbi come me e te! 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 Grazie a tutti